Senatore, qual è il motivo della sua visita? Il motivo della mia visita è proprio quello per capire e tentare di sbloccare quella che è una situazione ormai che sta andando avanti da più anni, sbloccare le risorse per poter rirendere agibile o comunque rifare completamente quella parte che è stata chiusa. Credo che il liceo e quindi anche i ragazzi stessi che mi hanno accolto in questo momento di riportare chiaramente qui tutto quello che era la storia di questo istituto, che è una delle storie più importanti. Quali, pensa, saranno le tempistiche? Le tempistiche è una bella domanda, ma ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando con la scuola per capire, ne abbiamo parlato con la direzione generale del ministero proprio anche questa settimana, e so che hanno avuto un primo incontro con la provincia, che è quella che è detentrice del finanziamento e poi a sua volta qui per l'istituto e quindi si sta lavorando per capire e per comunque smuovere la situazione per raggiungere l'obiettivo. Credo che questo è oggi quello che stiamo facendo e la visita qui oggi era solo un modo per far sentire le istituzioni vicine e credo che per i cittadini, e questo sia uno degli aspetti più importanti, di non dimenticare che la scuola, l'istruzione dei nostri figli è una delle cose più importanti che abbiamo. Mi sono voluto interessare di questa situazione che va avanti dal 2019. Noi abbiamo, da quando questa struttura è stata chiusa per l'inagibilità, noi abbiamo molti studenti e gli stessi docenti che sono costretti a fare sacrifici perché devono appoggiarsi in altre strutture. Sono ormai qualche anno che la situazione non si sblocca, per cui mi sono interessato. Ho invitato il senatore che ha risposto positivamente a prendere coscienza della situazione direttamente sul posto e adesso il lavoro andrà avanti al governo, sperando che si trovino presto le soluzioni, anche per sbloccare un fondo che è fermo lì, non si è capito bene il perché e che non permette in qualche modo di poi proseguire con l'iter che riguarda i lavori da fare in questa struttura. Aspettiamo che si muovano le acque dalla provincia o da Roma? Beh, questo ripeto, lo verificheremo. Io mi auguro che la provincia abbia fatto tutto quello che deve fare e quindi mi auguro che se c'è un problema che è fermo a Roma, questo quanto prima si sblocchi. Chiaramente bisogna che qualcuno glielo vada a dire e questo è lo scopo anche di questa visita. Obiettivo quindi? Tempistiche? Tempistiche non lo posso dire, è difficile, è molto difficile. Io spero anche domani. Ecco, quindi confido nell'impegno del senatore che è una persona, oltre che essere una figura istituzionale, molto corretta, molto attenta al territorio e molto riconoscente al territorio che comunque l'ha votato alle ultime elezioni. Quindi spero quanto prima che si risolva questa questione. Grazie a tutti.